Un tubo del gas tranciato da un piccolo scavatore durante i lavori di riqualificazione energetica del municipio di Noventa Padovana ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. La squadra arrivata da Padova ha tamponato la perdita del gas dal tubo di polietilene fino all'arrivo dell'azienda incaricata della fornitura del metano che ha provveduto alla riparazione.